... Appuntamento con la rassegna stampa del mattino su Fano TV, canale 17, in tutta la regione Marche. Ben ritrovati, cari telespettatori, sono le 7 e siamo in diretta, come sempre. Allora partiamo dalla ricorrenza del giorno, dal santo, oggi è quello che sono le sacre ceneri, appuntamento che apre la quaresima. L'alba alle 7.06, il tramonto alle 17.43. Aumentano le temperature, anche se a quest'ora fa freddino, siamo sempre intorno ai 3 gradi, perlomeno qui sulla costa Fano. Per la giornata di oggi il bollettino della protezione civile delle Marche prevede cielo nuvoloso con nuvole basse, ma le temperature sono in generale aumento. Al mattino ancora gelate, come abbiamo detto, diffuse nei fondovalle e nelle conche. Attenzione dunque domani, vediamo la situazione del tempo con ancora cielo nuvoloso, qualche foschia, come sempre, nei fondovalle e poi temperature che aumentano ancora. Venerdì 19, stessa più o meno condizione, anche se non ci saranno le nebbie, aumenteranno ancora le temperature massime, invece le minime saranno stazionari e un lieve diminuzione. Tempo buono, insomma, ancora per i prossimi giorni. Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, RSA, operazione moderna, la vaccinazione insieme alla campagna per gli over 80, test a scuola, polemica tra Ricci e la destra. Acquaroli chiude i confini della provincia di Ancona, restrizioni ulteriori, competenza dei comuni. A centro pagina, Ceriscioli ricoverato, ora sta meglio. Se il virus cammina, però, dice lui, bisogna chiudere. Ladri pendolari arrestati tre volte in cinque giorni a Pesaro. A Fano progettavano un furto dal Fano Center, fuga in auto, sono stati presi. Si ligate le barriere, un pericolo anche per le ambulanze. Di taglio basso, un compleanno che vale. Rossi, la festa è in famiglia. Il campione spegne 42 candeline e presenta il team. Il Carlino di Pesaro, il miracolo di Bruno e Diva. Lui ha 89 anni, lei ha 84, prima gravissimi, poi vincono il virus. Ancona, provincia chiusa per Covid, contro il dilagare dei contagi. Acquaroli blinda, la zona da oggi fino alle 24 di sabato, vietato entrare ed uscire. L'orribile fine di un 93enne si è lontana dalla casa di riposo e lo ritrovano morto assiderato, era originario di Maceratta Feltri. Addio invece a Giovannelli. Giovannelli era il barbiere storico della città di Pesaro, anche lui vinto dal morbo. Auto come bolidi sulla siligata, non riusciamo ad uscire di casa. Protestano i residenti. Un raggiro a Tavuglia, lei offre vitto e alloggio e l'altra le ruba, 43 mila euro. Il crollo del turismo, agenzie di viaggio alberghi, noi accoppati, ci servono aiuti. Vis nella Tana Triestina, fanno occhio al Cesena, serie C le partite di oggi. Basket scoppia la VL Mania, tutti a caccia delle magliette. Allora, Acquaroli chiude i confini della città e la provincia di Ancona, i confini dell'Anconetano, i sindaci valutino altri stop. Dice, firmata l'ordinanza, per cercare di rallentare la corsa del virus fuori provincia. Il governatore parla di provvedimento fino a sabato in attesa dell'RT e dei nuovi colori. Spostamenti dunque limitati, salvo per lavoro e studio con autocertificazione. La prossima settimana forse saremo ancora in zona gialla, ma dice Acquaroli, non è detto. Intanto sulle varianti contagiose, stoppa, gli isterismi, i clementi, il virologo dice il Covid non è più letale di prima. Il virologo del San Raffaele c'è un allarmismo eccessivo. Dice, le mutazioni sono normali e i vaccini risultano ugualmente efficaci. Allora, andiamo a leggere dal carino un po' alcuni passi di questa intervista. È vero che questa mutazione contagi soprattutto bambini e adolescenti, cioè questo virus, soprattutto l'inglese, insomma, queste varianti. Non è affatto così, risponde. Colpisce tutti indistintamente, lo confermano anche i recenti studi fatti in Inghilterra, in cui emerge chiaramente come il nuovo ceppo colpisca tutte le fasce d'età. Sintetizzando, bisogna avere paura oppure no? Risponde ancora Clementi. Mutazioni di questo tipo si formano abitualmente, ma non c'è nessuna alcuna evidenza, come detto, che queste conferiscano alla malattia una virulenza maggiore. Non dico di sottovalutarne la contagiosità, ma è nella natura del virus cambiare e mutare. L'obiettivo è molto semplice. Perché è molto semplice? Perché l'obiettivo del coronavirus è quello di replicarsi e adattarsi all'organismo, quindi non di uccidere. Ora c'è una percentuale della popolazione che si è immunizzata, un'altra fetta che si è vaccinata, e dunque il virus cerca di sopravvivere, cercando di sfuggire agli attacchi dovuti alle cure. Ecco perché bisogna fare presto con le vaccinazioni. Più velocemente immunizziamo, dice Clementi, meno margini avrà il virus di variare e di evolversi nuovamente. Mentre sull'altra pagina del Carlino, incubo, varianti, nuove chiusure, mini zone rosse per evitare il lockdown, cambio di strategia nella gestione dell'emergenza dopo il caos sugli impianti da sci, decisioni comunicate in anticipo. Una cabina di regia valuterà dunque i dati e terrà conto delle ricadute economiche e sociali. La mappa, ecco cosa succede negli altri paesi. Allora andiamo a vedere che cosa succede negli altri paesi in maniera molto schematica e veloce. In Germania, per esempio, la Germania è uno Stato federale, la sanità di competenza delle regioni, la Merker non è riuscita però a mettere d'accordo tutti quanti i premier delle varie realtà federali. Dunque il lockdown che è stato deciso a metà febbraio in Germania doveva terminare dopo un mese, invece finirà primo, ovvero il 7. Mentre in Francia il coprifuoco, c'è un coprifuoco dalle 18 alle 6, ma niente lockdown. La Francia ha scelto dunque un sistema elastico. In Inghilterra invece c'è una stretta da gennaio con multe davvero stellari. Il terzo lockdown per gli inglesi è dura dal 5 di gennaio. Potrebbe essere ammorbidito dall'8 di marzo, ma il premier Johnson parlerà il 22. Oggi bisogna stare a casa, uscire solo per appuntamenti medici, portare fuori il cane, fare la spesa, motivi di lavoro. Mentre negli Stati Uniti è dove c'è un po' più libertà. Biden negli Stati Uniti c'è l'obbligo di distanza e mascherina in tutti gli uffici pubblici, negli esercizi commerciali e nei ristoranti. Ristoranti che da San Valentino possono rimanere aperti, per esempio, fino alle 23. Riunioni, le riunioni con non più di 25 persone all'aperto e al chiuso. I cinema, i cinema negli Stati Uniti sono riaperti fuori da New York, però con non più di 50 persone. Scuole invece a chiusura alternate e sulle vaccinazioni a chi ha più di 65 anni gli over 65 immunizzati a ritmo di 1,5 milioni di persone al giorno. Vedete come si corre molto più spediti. Altre sette casi invece siamo sulle pagine di Pesaro. La variante inglese si allarga. Gli ultimi sono stati notificati a Urbino. In tutto sono nove, compresa la sudafricana. L'epidemiologo Brandi dice ora è diffusa al 18%, ma può arrivare all'80%. Abbiamo questa mattina due pareri, uno ottimista e uno pessimista. L'ottimista è Piero Sestili, che è associato di farmacologia all'Università di Urbino e dice che possiamo aggiornare i vaccini con relativa facilità e si lavora ad un unico valido per tutti i coronavirus. Mentre il pessimista è Giorgio Brandi, originario di igiene all'Università di Urbino, il quale dice che bisogna vedere se possono provocare delle reinfezioni oppure delle ricadute dopo l'immunizzazione. Però diciamo che la buona notizia è che si sta lavorando ad un vaccino, praticamente un vaccino unico, in grado di dare una risposta contro tutti i virus corona che negli ultimi 15 anni hanno provocato almeno tre pandemie. Poi c'è un intervento di Eugenio Carlotti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1, che dice che nella provincia di Peso Urbino stiamo cercando di cambiare strategia per quanto riguarda le varianti. Al momento ad Urbani i nuovi positivi sono stabili e questo è un dato tranquillizzante, comenta Carlotti. E anche la situazione provinciale, a prescindere da queste tre varianti, al momento sembra buona. Ma ci aspettiamo alla fine del mese le conseguenze del passaggio alla zona gialla. L'OMS, intanto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parla di contagi dimezzati in tutto il mondo. Quindi questa potrebbe essere vista e letta come sicuramente una buona notizia. L'OMS che dice appunto i contagi in tutto il mondo sono dimezzati. In Italia rallenta anche il tasso di positività. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice l'emergenza non è finita. Dunque bisogna, è come un focolaio, è come un fuoco che non si è ancora spento. Dall'inizio dell'anno i contagi sono dimezzati, l'incendio non è spento, ma ne abbiamo ridotto la dimensione. Se smettessimo di contrastarlo su un qualsiasi fronte tornerebbe ovviamente ruggendo. Il Corriere Adriatico titolo a marzo si parte con le scuole poi tocca le forze dell'ordine. Stiamo parlando dei vaccini. Dal primo di marzo si parte con la somministrazione del vaccino anticovidal personale scolastico nelle marche dal giorno seguente. Invece toccherà forze dell'ordine, forze armate, vigili del fuoco, polizia locale, volontari di protezione civile, prefetture, magistratura e questura. Ad aggiornare la tabella di marcia di questa campagna vaccinale è stato ieri l'assessore alla sanità della regione Marche Filippo Salta Martini. Luca Ceriscioli, ex governatore delle Marche, ex sindaco di Pesaro, da ieri è ricoverato nel reparto di medicina del San Salvatore di Pesaro. Continuava ad avere questa influenza anche intorno ai 39 gradi che non si abbassava, così è stato deciso in via precauzionale il suo ricovero. E che cosa dice oggi Luca Ceriscioli al telefono ad Andrea Taffi del Corriere Adriatico? Capisco l'economia ma quando c'è la salute di mezzo si chiude. Come dire, Ceriscioli è per la chiusura totale. Le varianti sono un rischio per gli ospedali. E poi parla della sua situazione, della sua condizione, la febbre non scendeva, un polmone è infiammato. Affaticato non direi perché sento solo spossatezza che deriva dalla febbre. Poi quando Andrea Taffi gli chiede se ha ricevuto dei messaggi di auguri e quant'altro, lui risponde dicendo certo dal Vescovo per esempio con il quale ho un rapporto di amicizia, il Vescovo Piero Coccia e poi anche dei suoi alunni. Alunni, tanti messaggi, i più belli sono arrivati dagli alunni della scuola serale, quelli che hanno anche la sua età o addirittura c'è qualcuno che ne ha dieci anni di più. Ha lottato come un leone, siamo a pagina nella pagina di Pesero a pagina 4 del resto del Carlino, ha lottato come un leone fino alla fine, poi però Giovanelli, il barbiere storico che da un anno era ormai in pensione purtroppo è morto. Il contagio a dicembre i familiari ci dicevano è un virus cattivo, noi dobbiamo esserlo di più. Lui ha lottato, infatti così raccontano appunto anche i familiari che ha cercato in tutti i modi di vincere questo virus, purtroppo non c'è stato nulla a fare, il 25 gennaio ha peggiorato ulteriormente e i medici sono stati costretti ad intubarlo. Tra l'altro il resto del Carlino si occupò di lui quando dopo 70 anni di lavoro come barbiere decise di chiudere a Natale. Aveva smesso di lavorare solo da un anno in 70 anni di carriera, era mancato per malattia dal negozio soltanto per un giorno. E Angelica Panzieri stamattina scrive appunto i funerali si terranno domani giovedì 18 febbraio alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria del Porto. Invece una coppia una coppia unita straunita di Marotta è riuscita a battere il virus. Bruno e Diva occupano oggi la pagina 5 del resto del Carlino edizione pesarese. Quando il virus alza le mani nel senso che si arrende una coppia di coniugi di Marotta di 89 e 84 anni vince il morbo dopo 10 giorni di ricovero in sub intensiva e parlano di miracolo si sono contagiati insieme e sono guariti sempre insieme spalla a spalla mano nella mano racconta oggi al giornale a Roberto Damiani il nipote Matteo i nonni non avevano nessuna intenzione di mollare così è stato sicuramente andarsene senza nemmeno un saluto dopo una vita trascorsa praticamente insieme non ne avevano voglia Bruno e Diva e quindi e quindi niente hanno vinto il virus e quindi sono tornati adesso a casa Bruno è sempre stato gestore di alberghi a Marotta la moglie Diva invece era la sarta del paese sempre la cronaca dal resto del Carlino con questa triste notizia invece tragica notizia di questo 93enne di Macerata Feltri che era ospite di una casa di riposo di Gioia Marina Antonio Brisigotti che si allontana dalla casa di riposo ed è morto assiderato malato di Alzheimer è stato ritrovato nella tarda era uscito da questa struttura nella tarda serata di domenica il corpo era in un camping poco lontano chiuso durante l'inverno e i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'allontanamento la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico noi ristoratori chiudiamo per un mese ma gli indennizi devono arrivare subito la provocazione di Ristoro Italia che incontra l'assessore Carloni oppure fateci aprire fino alle 10 di sera sotto invece a proposito di ristoratori oggi alle 10 questa mattina alle 10 nella chiesa di San Cristofo a Fano ci saranno i funerali di Fiorenzo Santini che è morto storico gestore del ristorante Mike & Fior di Centinarola poi si è spostato a Villa Marina nella zona di Sassonia qui la vedete insieme alla moglie Perla insomma l'associazione Ristoro Italia anche l'associazione porge alla famiglia le condoglianze poi a Fano invece il resto del Carlino Far West a Bellocchi speronata una volante così due donne e un uomo dell'Est hanno cercato di sfuggire alla polizia dopo aver tentato di rubare dentro i negozi e nelle auto parcheggiate il papà ustionato invece resta gravissimo prognosi riservata non sono buone le notizie che arrivano dall'ospedale Bufalin di Cesena l'unica cosa certa è che il giovane papà fanese rimasto ustionato la notte di San Valentino nella sua casa di via Ammiraglio Cappellini a Torrete ce la sta mettendo tutta per restare attaccato alla vita e tornare dal figlio di 5 anni e da sua moglie e poi anche qua sul resto del carlino oggi la dio a Fiorenzo Santini una persona stimata da tutti storico ex titolare di Mike & Fiore Villa Marina progettavano un furto al Fano Center sorpresi fuggono in auto e adesso quattro persone sono finite nei guai in azione gli agenti del commissariato di Fano che hanno subito no anzi subito anche uno speronamento avevano speronato la vettura della polizia per aprirsi la via d'uscita dal parcheggio dell'ipermercato di Fano Center a Bellocchi ma sono stati bloccati al casello autostradale a finire adesso nei guai quattro persone originarie della Romania due uomini e due donne denunciate all'autorità giudiziaria per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento espatriato invece un giovane romeno partecipò alla rissa armato di coltello ed espulso nel settembre scorso era stato coinvolto nella furibonda rissa al pincio di Fano e poi sempre dalla pagina del Corriere buona spesa per alimenti e beni necessari le domande a partire da oggi e fino alle 13 del 23 febbraio è possibile candidarsi a pagina 16 del resto del Carlino chiesa all'asta l'anatema ci sono dei corpi là sotto l'edificio sconsacrato in vendita il 13 marzo al Tribunale di Pesaro era utilizzato per le sepolture della confraternita di San Bartolomeo dunque potrebbero esserci ancora delle sepolture all'interno dell'ex chiesa di San Leonardo che il 13 marzo potrà andrà all'asta al Tribunale di Pesaro la chiesa che una volta sconsacrata fu venduta nel 1973 ad una ditta edile di Fano dall'allora quando allora c'era il vescovo Costanzo Mici pur mantenendo la sua forma esteriore ha subito al suo interno numerosi rimaneggiamenti tra cui il rifacimento del pavimento sotto in quale potrebbero ancora esserci i resti delle sepolture effettuati nei secoli precedenti il pupo invece parliamo di carnevale ieri l'ultimo giorno di carnevale martedì grasso il pupo incenerito ma almeno resta il dolce con il rogo si è chiuso il carnevale celebrato da Ceresani con una torta dedicata miseria e nobiltà vendesi castello invece siamo a pagina 17 edificato dai della Roveri si trova a Montebello di Orciano adesso viene messo all'asta per 630 mila euro questa è la veduta del castello c'è tutta la storia che Gennari ripercorre questa mattina il sindaco dice volevano prendere volevamo anzi prenderlo noi come comune per 20 milioni di lire ma poi lo volle il regista Leandro Castellani ancora dai giornali di questa mattina Urbino tiri in panne nella rotatoria della croce traffico in til per ore un'odissea ducale l'avaria del mezzo si è verificata alle 8 del mattino bloccando il principale snodo della città fino all'arrivo della gru ancora da Urbino però il Carlino alberghi in crisi è dura però ce la faremo nel 2020 si è lavorato per pochi mesi ora Fabrizio Marcucci Pinoli lancia un appello Mario Draghi invece insegnò a Urbino sempre legante tutto d'un pezzo la città e il nuovo governo non solo i ministri sono legati a Urbino ma anche il premier lo ricorda Giovanni Ioni ex direttore generale della Sogesta società di formazione dell'Eni fondata nel 1974 a Senigallia corso 2 giugno basta trappole troppi San Pietrini sconnessi l'assessore regine dice un intervento da 30 mila euro per sistemarli una vigilessa in ciampa e si fa male l'ex Ciare diventa un centro per giovani mentre l'altra pagina di Senigallia è per la cronaca dal Corriere va in ospedale stroncata da un malore morta nell'indifferenza dei passanti la 75enne di Chiaravalle stava entrando per una visita una ragazza l'ha soccorsa ma nessuno si è fermato era rimasta era stata rianimata sulla strada ma poi è spirata al pronto soccorso ristoratori positivi chiuso il club nautico l'annuncio su Facebook di Ruggeri e Gaiardoni stiamo bene ci vedremo presto poi vende le maschere donate alle scuole dal governo il rivenditore segnalato al commissariato dopo un servizio di striscia e da Senigallia ancora il Carlino le mura continuano a cedere e allarme Corinaldo corsa contro il tempo del comune per far partire i lavori di contenimento la famiglia evacuata resta senza casa poi un malore in strada morta la donna di cui abbiamo parlato poco fa e Ponte Garibaldi è l'ora del restyling la pagina di sport quella del Corriere per parlare dell'incontro con con il Cesena oggi poveriggio lo stadio Mancini di Fano il Fano deve alzare l'asticella arriva l'insidioso Cesena ma i Granata vogliono continuare la serie positiva l'allenatore destro dice ci siamo preparati bene per la sfida ad una squadra che ha sicuramente dei valori mentre l'ultima pagina della nostra segna stampa la dedichiamo al compleanno di Valentino Rossi che ha festeggiato 42 anni 42 anni e non sentirli il vero regalo è l'ennesima sfida festa in famiglia per Rossi tra gli auguri di Vasco e della fidanzata che dice il tuo segreto è semplice e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa vi ricordo gli appuntamenti di questa sera alle ore 21 dopo il telegiornale occhio alla notizia delle 20 e 30 c'è una puntata di Guarda Chi C'è con Francesco Adornato che è il magnifico lettore dell'Università di Macerata grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti